Ciao a tutti, buon pranzo! Allora potete staccare e spegnere le televisioni perché questa è una notizia importante che richiede la vostra attenzione sempre che la vogliano far vedere perché qua sto parlando di Bruxelles che trema, trema, trema perché? Perché in arrivo una nuova bufera giudiziaria nuovi nomi di euro parlamentari italiani vi dirò tutto appena sarete collegati, appena l'algoritmo capirà che non si può sempre bannare e nascondere la verità vi chiederei di, appena vedrete la diretta, di iniziare a condividere prendo l'altro telefono prima che mi suoni vi chiederei di condividere, è fondamentale perché la notizia creerà molto scalpore, molto confusione nelle fine di alcuni partiti europei, in particolare italiani in questo caso intanto come vedete i collegati per ora sono pochi per ora la notifica sto verificando con un altro telefonino la verifica non col telefono della redazione la notifica non la stanno inviando quindi ufficiale, stanno nascondendo il video quindi vi chiederei di condividere perché quando lo nascondono in questo modo il video è una cosa patetica credono di fare la furbata, di nascondere le notizie ma in verità si tirano la zappa sui piedi perché la gente capisce la schifezza, la porcheria che c'è dietro a queste persone attendo un attimo, io aspetto proprio che siate collegati perché la notizia è talmente importante ciao Giulia, ciao Giulia c'è da ridere ma c'è da ridere veramente fai bene a fare il sorriso e la risata perché quando capirai cosa sta succedendo c'è chi si sta grattando in testa secondo me che non ha voglia di ridere per questa notizia vi chiederei di condividere perché loro non stanno condividendo la notifica la notifica non sta arrivando a nessuno mi stanno scrivendo ecco è arrivata, sta arrivando adesso la notifica forse adesso inizieranno a collegarsi siamo riusciti a sbloccare la notifica notizia dell'ultima ora Bruxelles trema, trema amici ore 13, perfetto ore 13, ora di pranzo mentre mangiate appoggiate il telefonino sul tavolo contro una bottiglia o contro un bicchiere in modo tale da lasciare in piedi e guardate la giustivisione la televisione perché vi darò questa notizia appena pubblicata dall'amico Tommaso Croco sul paragone.it ovviamente quelle notizie che non vorranno far vedere oppure che le faranno vedere in tono diverso noi diremo la verità scopri scopri tutto come dice Vicky attendo solo un attimo che siate collegati perché appena arrivata la notifica alla gente ed è giusto che più gente possibile Daniele dice Pettinacci non riesco a condividere attenzione Daniele Pettinacci un altro Katia hanno appena detto che non riescono a condividere alcuni utenti quindi provate a condividere il video se è vera questa cosa non riescono a condividere incredibile provate a condividere cortesemente anche voi perché vogliono tenere nascosta questa notizia perché evidentemente sanno che coinvolgerà alcuni esponenti del Partito Democratico si presume italiano e di altri partiti filo centro-sinistra andiamo a leggere la cosa se pensavate che lo scandalo corruzione che ha coinvolto il Parlamento Europeo fosse destinato a sgonfiarsi col passare delle settimane sappiate che vi sbagliavate ci sbagliavamo e di grosso stando a quanto anticipato da Michaelis Dimitra Copulos l'avvocato dell'ex vicepresidente del Parlamento Europeo Eva Kaili in carcere dal 9 dicembre lo ricordiamo Eva Kaili la vicepresidente del Parlamento Europeo è in carcere dal 9 dicembre scorso presto potrebbero infatti esserci nuove scottanti rivelazioni e l'algoritmo lo sta condividendo perché evidentemente c'è qualcuno anche di loro in mezzo a queste rivelazioni il legale anticipato la volontà dell'ex eurodeputato pentito del Qatargate del Qatargate Pier Antonio Panzeri di fare alla giustizia belga nuovi nomi di eurodeputati attenzione italiani tedeschi belgi e francesi quindi lo scandalo si allarga si allarga anche a quelli che stanno bloccando le notizie di chi sostiene la verità e chi combatte contro le porcate sui social come adesso che facebook non sta condividendo la diretta volontaria sta nascondendo la diretta volontariamente attenzione quindi Antonio Panzeri farà la giustizia belga altri nomi secondo questa indescrizione dell'euro l'ex presidente dell'europarlamento Eva Kaili alla tv greca la contra Dimitra Kopulos l'avvocato ha rivelato come dopo l'accordo di collaborazione di giustizia firmato con la procura federale belga Panzeri ora è completamente inaffidabile e tutto ciò che gli interessa è salvare la sua famiglia sua moglie e sua figlia quindi quindi attenzione attenzione nelle prossime settimane dunque potrebbero spuntare i nomi di onorevoli coinvolti nelle vicende italiani tedeschi francesi e belgi in quali vicende le vicende di corruzione che hanno gettato sinistre ombre sull'europarlamento veramente un casino la notizia di possibili altri terremoti è arrivata tra l'altro proprio nelle ore in cui si è appreso dell'audizione di Andrea Cozzolino davanti alla commissione di giustizia Iuri del Parlamento Europeo per la revoca della sua immunità nell'ambito delle indagini del Qatargate quindi attenzione verrà revocata di fatto l'immunità secondo queste indiscrezioni di Andrea Cozzolino Cozzolino si è dichiarato innocente davanti alla commissione di giustizia Iuri del Parlamento Europeo e ha rinunciato ufficialmente alla sua immunità effettivo durante l'audizione il deputato del Partito Democratico ha contestato l'ipotesi investigativa a suo carico definendole alquanto generiche e negato di aver ricevuto direttamente o indirettamente né denaro con tanti o altre forme di sostentamento Cozzolino si è anche detto totalmente all'oscuro chissà perché delle attività realizzate dal signor Giorgi e dal signor Panzeri in uno dei primi interrogatori sostenuti anche l'ex sindacalista Antonio Panzeri aveva scaricato Cozzolino io non ho prove ma voi dovreste controllarlo l'attuale presidente della delegazione del Maghreb insomma la confusione c'è nelle prossime ore potrebbero nelle prossime settimane potrebbero spuntare altri nomi e secondo le indiscrezioni di questo avvocato l'avvocato di Caidi l'ex l'ex eurodeputata ex vicepresidente del Parlamento Europeo attenzione secondo questo avvocato Panzeri starebbe per rivelare alcuni nomi importantissimi di eurodeputati italiani politici italiani tedeschi francesi e belgi speriamo chissà cosa stanno nascondendo la domanda di Angela è l'affermazione di Angela è corretta chissà cosa stanno ancora nascondendo cosa c'è di nascosto ancora cosa verrà fuori la cosa è certa che se pare di queste notizie chissà perché su 230.000 persone che mi seguono a solo 148 è permesso di guardare il video 144 145 quindi sono più o meno quelle ponetevi le domande come mai quando giusti o altri parlano di queste notizie dove fanno capire il marciume che c'è ipotizzano sollevano dei dubbi illeciti sul marciume della comunità europea i social network in Europa non fanno vedere a nessuno le notizie le bannano le nascondono ponetevi questa domanda datevi delle risposte guardate sta callando addirittura il numero quindi sta a voi perché su 230.000 persone esempio della mia pagina solo 136 persone vedono chissà perché misteriosamente questa notizia e facebook nasconde queste notizie qualcuno spinge pulsanti dei social network dicendo non fate vedere la verità la verità fa male la verità ci distruggerà non fatela vedere il dubbio è lecito potrebbe essere solo una mia ipotesi su 230.000 persone è normale che 130 guardino una diretta e le altre 234.870 non guardino la diretta ogni dubbio è lecito come mai come mai facebook 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 la signora Zucchina secondo me qualcosa sotto c'è nelle prossime settimane capiremo ne capiremo di più perché la verità sta venendo fuori sta calando guardate che dico parlo di loro dico la verità e guardate cosa fa l'algoritmo cosa fanno le persone dietro l'algoritmo che fanno finta di essere un algoritmo è la vostra fine ciao a tutti grazie a tutti